ricordate una cosa se la mia sofferenza è il vostro divertimento avete un problema molto serio se ti piace just funny world mettici un like iscriviti al canale grazie mille un abbraccio forte un animale domestico è la miglior medicina contro i mali dall'anima lo so inizia l'estate ma tienimi con te lo stesso non lasciarmi solo io non l'ho mai fatto tu sei l'unica cosa che ho non mi lasciare loro sono così ti guardano sempre negli occhi nel loro sguardo non troveremo mai l'ombra della menzonia ma solo la luce della serenità dal loro amore ecco cosa contraddistingue il cane dall'uomo la serenità io in dispiaggia non ci posso andare perché sporco ma sarò sempre al tuo fianco e non ti lascerò mai non abbandonarli mai sono così innocenti che pensano che tornerai quando hai visione di un abbraccio e allora vai a darlo all'unica creatura che tiene veramente a te sai un cane può distruggerti le scarpe però non distruggerà mai il tuo cuore vita di di me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti